Io assolutamente no, la legge gira e una volta realizzato il referendum si propone in maniera identica a tutte le altre leggi elettorali precedenti e alla sentenza della Corte Costituzionale stessa. A me sembrerebbe uno che va a rubare lecca lecca ai bambini, uno che va a modificare la legge all'ultimo momento, comunque in passato la Corte a fronte di atteggiamenti furfanteschi di modifiche all'ultimo momento ha dato comunque il via libera all'esecuzione del referendum. Ho invocato i forgoni se qualcuno all'ultimo momento dovesse decidere di fare la furbizia, la cambiamo in modo che non si fa il referendum. Oggi la Corte la pensa in maniera diversa e punisce questi tentativi truffaldini dell'ultimo momento. Grazie a tutti.